ci sono film che riescono a muoversi agevolmente anche all'interno di storie un po delicate se vogliamo chiamarle così con un tratto elegante che ci fa superare quell'imbarazzo che a prima vista sembrerebbe inevitabile chissà a che film sta pensando immagino che vi chiediate e in effetti ora sono io a sentirmi goffo forse anche un po ridicolo se vi dico a quale pellicola mi riferisco dunque nel 78 1978 escono film importanti come il carciatore un mercoledì da leone il partito può attendere e tanti altri ora però al di là dell'indiscusso valore delle opere sopraccitate la pellicola che ha vagamente spiazzato il pubblico per il contenuto in un certo senso non politically correct ma estremamente divertente sempre in quell'anno è la riduzione cinematografica di una pièce teatrale francese di grande successo la casual folle in italiano il vizietto oggi ci fa sorridere che un film che parla di omosessualità di travestiti insomma di persone impropriamente considerate diverse possa lasciare nello spettatore una sorta di imbarazzo in effetti a vedere bene non credo che anche all'epoca nessuno si sia mai scandalizzato tuttavia se le cose sono andate in questo modo è proprio per la leggerezza e l'eleganza con le quali il regista edouard molinaro ha costruito questa deliziosa pellicola dalla comicità irresistibile ma veniamo alla trama renato e albin sono una coppia omosessuale che vive a saint tropez dove gestiscono la casio folle un locale in cui si esibiscono drag queen artisti travestiti gli spettacoli hanno un grande successo anche per merito di albin che con il nome di zazà napoli è la stella di punta renato e albin rispettivamente hugo dognazzi e michelle serrault sono una coppia molto legata e il loro rapporto dura da oltre vent'anni ho voglia di morire dottore ho voglia di morire ma lei sta facenando eh si si rovina a riscaldare coniglio alla cacciatore oh non si rovina allora guardi mi insegno intanto lo metta in una terrina col suo sughetto a tagno ma allora muori o cucini ma senti qua chi parla se sto così è colpa tua guarda come sono ridotto per colpa tua una larva umana un fico succhiato una larva tutte le sere la stessa canzone ti ho registrato ieri eccolo vede io soffro e lui gioca vuoi continuare in play back proprio vent'anni prima però renato in una serata particolare ha avuto una brevissima relazione eterosessuale ecco qui il vizietto dalla quale è nato loran il ragazzo ha sempre vissuto con il padre e albin ora però abita a parigi dove frequenta l'università una sera loran torna a saint-tropé e comunica renato che è in procinto di sposare una ragazza della buona borghesia francese figlia di un deputato o membro del partito ultra conservatore fin qui niente di particolare se non fosse che la famiglia della promessa sposa sta per arrivare a saint-tropé per incontrare i futuri suoceri tu non sei responsabile della vita privata del presidente luis io sono il segretario generale di un partito che si chiama unione per l'ordine morale è il cui presidente è morto fra le braccia di una puttana minorenne negra una bacchia per i giornalisti vedrai la situazione si paventa a dir poco drammatica con l'aggravante che loro non potendo dire di che cosa si occupano sua mamma e suo papà ha raccontato che renato è addetto culturale all'ambasciata italiana ora non starò qui a spoilerare ciò che succederà ma vi assicuro che l'incontro tra i genitori della ragazza e albin e renato raggiunge momenti di larità straordinari trascinando lo spettatore in un vortice di risate irrefrenabile buoni buoni da che gentili anche la mamma grazie ancora Il film ebbe un successo straordinario che portò la produzione a sfornare un secondo capitolo, il vizietto 2, come succede normalmente. Come dicevamo, la pellicola è tratta dalla Cage aux Folles, una pièce teatrale di Jean Poiré messa in scena nel 1973 e replicato per cinque anni consecutivi al Palais Royal di Parigi. Un riconoscimento speciale va a tutti gli attori, in particolare a Michel Serrault che aveva interpretato il ruolo di Elben anche nella commedia originale e a uno straordinario Ugo Tognazzi, perfetto nel caratterizzare un personaggio in bilico tra il macio virile e il compagno innamorato di Elben. Da ricordare l'ottima scenografia di Carlo Gervasi che si coniuga perfettamente con i meravigliosi costumi del grande Piero Tosi. Il film ebbe diversi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe, un Davide Donatello e un Cesar, oltre a tre nomination all'Oscar. Insomma, se non lo avete visto, correte a recuperare il DVD e piazzatevi davanti al televisore con un pacco di popcorn e questa volta il consiglio vale anche per chi, come me, ebbe la fortuna di vederlo all'epoca. Vedo già i titoli sui giornali domani, dopo il presidente Berthier e la sua puttana. Il deputato Charier folleggia tra i travestiti. Grazie. 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 Grazie.